buon pomeriggio a tutti sono qui per raccontarvi brevemente dell'ultima pubblicazione inerente la città di venezia iniziando da sensazioni che ho sempre provato in tutti gli anni in cui ci sono stata ci sono dei temi in particolare in questo libro ispirazione venidig che ricorrono particolarmente in tutte le varie sezioni proposte passeggiare laguna marco polo in movimento persone immaginazione carnevale ispirazione venidig è un volume di arte di poesia di fotografia edito a knicks winter da enter into art in germania un volume che ha messo insieme le opere di 63 autori provenienti da 29 paesi io sono stata inclusa proprio con la fotografia del liceo marco polo che è stato immortalato riflesso in acqua proprio liceo analogo al nostro istituto lagrangia di vercelli e già ho scelto proprio di mandare queste tre immagini in quanto il tema era inerente al settecentesimo anniversario della morte di marco polo temi quindi diversi opere ad esempio ritraenti il ponte dei sospiri il gondoliere sul canal grande il sognatore un pianoforte tra le nuvole la musica è un sogno del resto poi vissuta in una città così romantica e ancora più sublime i colori del carnevale da quelle maschere così raffinate ed eleganti basti pensare a san zaccaria a san marco in tutte quelle conici così belle così delicate io ho scelto la fondamenta di santro vaso nella sestiera d'orso duro poco distante dalla ponte dell'accademia dalla fondamenta delle zattere il palazzo riflesso si chiama palazzo bollani ed è una sede espositiva della biennale di venezia adesso vi allegherò alcuni mostrerò alcune immagini questa è la copertina del libro che si può acquistare tramite il sito yumpu.com poi se qualcuno è interessato può mandarmi la una email all'indirizzo info niconista con la k 77 chiocciola gmail.com o anche su instagram un messaggio privato al canale niconista 77 18 oppure qua vi faccio vedere anche questa immagine che riporta la mia fotografia che è stata scelta io pensavo c'è di essere una data tutta la fondamenta di santo vaso in realtà avevo mandato tre fotografie ma hanno preferito questa con i riflessi nell'acqua e del resto come dicevo prima le sensazioni sono davvero profonde sono davvero uniche provate per anni con una nostalgia immensa io un canale whatsapp che si chiama i fotolibri di stefania grasso potete iscrivervi per trovare costantemente le newsletter il prossimo appuntamento sarà il giorno 24 maggio alle ore 15 salvo ulteriori cambiamenti ma la data dovrebbe essere confermata breve presso l'università del piemonte orientale dove sono stata invitata dal professor alberto d'oretto docente di ecologia ecologia applicata a presentare il fotolibro dedicato al parco animalier d'intrò in valle d'aosta ricordo che il le royalties ricavato che si guadagnerà dall'eventuale vendita di questo fotolibro andrà in beneficenza a favore dell'associazione retina italia onlus grazie e buon proseguimento a tutti grazie grazie grazie